buongiorno a tutti ragazzi ci stiamo preparando per andare in oratorio di bornato per festeggiare al venticinquesimo dell'oratorio di san bartolomeo in san giovanni bosco sono venticinque anni ci stiamo preparando per questo tornero di calcio e pallavolo io penso di giocare a calcio ho già le scarpe pronte è tutto seguitemi su instagram mettete mi piace su youtube eccetera eccetera non aprirà il cancello venite vedrete mettere in paura come si fa qua le persone si stanno già allenando ma noi le batteremo non le persone si può Grazie a tutti. Buongiorno Agostino, ciao. Comunità, Gesù, non solo moda, non solo mura 2019-1914. Servizio, fede. Eccolo qua. Questo è l'oratorio di San Bartolomeo, indetto da quello di San Giovanni Bosco. Ora è tutto pronto. Buongiorno. 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 Grazie.